Il Kama Sutra è curioso perché tutti ne parlano ma nessuno lo ha letto, a leggendolo fino alle estreme particolari, ma se ne ha un'impressione un po' conturbante per noi che anche se non siamo credenti siamo profondamente cattolici, siamo nella città del Papa e quindi abbiamo dei fondamenti di morale molto diversi. I baci della fanciulla sono tre, misurato, palpitante, che colpisce. Se essa, quasi obbligata, posa la bocca sulla bocca ma senza nessun movimento, si ha il bacio misurato. Il Kama Sutra dà i consigli alle prostitute, mentre noi si dice che la prostituzione non ci vuole essere, non ci deve essere. Dà i consigli alle mogli degli altri, come si possono sedurre, tutte le cose che si possono trarre. Ma la gente si aspetta dei consigli di perversione che non ci sono, anzi, sono tutti consigli di morale. E allora c'è la prima moglie, la vecchia, come trattare la giovane moglie, come corteggiare una fanciulla che non ha mai avuto rapporti con uomini. Insomma, sono delle cose di civiltà profonda. E così da noi invece è passato tutto in cavalleria come una roba divertente. Mi auguro però che il pubblico lo trovi divertente e che lo acquisti. Se lo stringi appena a occhi chiusi e velando con la mano gli occhi dell'innamorato e lo colpisce con la punta della lingua, è il bacio che colpisce. Noi siamo una generazione che il nostro divertimento era la lettura. Da giovani ci serviva anche per figurare nella società, da vecchi per nostra soddisfazione privata. La pornografia di allora era letterariamente modesta. Andavi dal linguaggio popolare fino alle ricerche danunziane, dove la bionda peluria si incurvava nel triangolo d'amore. Io non capivo niente, avevo otto anni. Dice, stampando sonori sculascioni sulle cosce della cameriera. Ecco, si andava così. Però era già letterario. E quindi c'era già uno sforzo a far diventare fantasia una scrittura. attraverso la lettura. Oggi invece ho fatto una cosa in televisione dove si parlava della lussuria. E mi hanno fatto vedere certe cose che avevano trovato loro di quadri, in cui c'era una donna col culo scoperto, e però era venere. Invece per loro, che sono succedanei del curioso Ottocento, pareva il peccato quello lì. Dico, ma no! Peccato anche nel quadro di Tiziano, Amor Sacro e Amor Profano. L'amor sacro è nuda, perché è la verità. La profana si è messa a un vestito bello, i guanti, si è vestita in ghingheri. Quindi è proprio il contrario. La nudità per noi è simbolo di disinvoltura sessuale, come dice nell'opera. E la sgonnella e mostra la caviglia con fare promettente lusinghiero. Invece questi quadri erano proprio il contrario della lussuria. Chi ha visto il film Passaggio in India non può dimenticare quelle meravigliose pareti con tutte le curiosità dell'amore fatto con gioia, senza pudori falsi. Grazie a tutti!